Cero, tonno mare aperto. Aperto come te. Hai capito? Un euro. Amore, qui fino al 18 maggio ci sono gli appi sconti. E quindi? Tantissime offerte con sconti fino al 50%. E poi c'è il tasso zero. E allora sono appi anch'io. Finanziamento TANETAEG 0%, 0 spese. Paghi in 10 o 20 rate mensili. Salva approvazione della finanziaria. Un euro. Batte. Forte. Sempre. È già primavera. È già estate. Calzature e accessori Nero Giardini. Il made in Italy.